allora stiamo provando stiamo proprio provando questo se il pianale regge che è stampato in 3d e l'escavatore riesce a salire sta testando proprio questa cosa qua buon pomeriggio allora il pianale sembra reggere non ti conviene quando va avanti tiri il braccio indietro ok no sei fuori sei fuori alza alza allora devi andare indietro ok e dove si fa il doppio movimento movimento dei cingoli alzare cioè tre movimenti ok ok piano 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 ok adesso ti conviene a girare ti conviene fare da te metti il braccio oltre il giulicoso sotto lo metti no 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 ah ti alzi lì test ragazzi test test in diretta faccio anche il video per youtube per chi vuole ragazzi la 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 piccolina l'esperienza allora da parte insieme piano piano dai che ce la fai si regge legge fra regge alzano avanti braccio 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 bravissimo metti un po più o funziona avanti avanti mai 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 ma ce la fa bene che abbiamo abbiamo se piano trasporto eccezionale anche se nel vuoto fanno un po bolli bolli occhio rossi e buchi lì dai dai che ce la facciamo dai che ce la facciamo pure la pietra ha preso porti eccezionale ogni di cocco la rossi la il nostro nuovo autista senza autista la nave pasta c'è grande aiuto voglio però si qui avrei problemi forse però attento perché qua potessi avere problemi ok dai raga dai raga andiamo a scavare adesso grazie che mi segue seguitemi anche su youtube ragazzi per rotami rc adesso aspetta aspetta guardate guardate ragazzi il nostro autista io spero che salga lì ho fatto la salita apposta spero che non si blocchi eh immaginavo vai 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 ce la fa perfetto perfetto vai tutto così però così rossi piano 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 e no a gradi a gradi va 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 ok bravo 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 piano adesso da l'altra parte da l'altra parte grazie adesso usciamo raga se ce la fa se non fa danni mi sposto fai di peso con il braccio roffa di peso con il braccio ok 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 ragazzi allora punto numero uno grazie a tutti voi veramente per i consigli per trasportarlo siete stato il massimo ragazzi il massimo allora adesso per fare il regalo ma se potete in live e nel video vedete i commenti per cui a finisci un punteggio oh la fa la fa se li basta se li basta se li stiamo per riparciare eh più iscrivete anche su youtube io vi noto ehm e così è che ci vinteggio il nome è mio il nome è mio il nome è mio allora io sono di venaria reale proprio ok nativo puro e seditore di mio e tutto ma non andare lì a non andare lì come lui come l'elettatore a 1 a 14 ma tutte no si è ribaltato a 1 a 14 ma tutte no si è ribaltato si è ribaltato si è ribaltato si è ribaltato ragazzi si è ribaltato si è ribaltato si è ribaltato si è ribaltato no 10.000 like ragazzi tutti 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 manco quei bambini dell'asilo ah Kiko è stato non ci credo non ci credo mi piace al nostro scavatorista mi piace al nostro scavatorista guardatelo guardatelo è bellino e poi non vuole rovinare non ci piace anche a me se avessi altri damper così volentieri non è che tutto sto niente problema no si vieni a scavarti qua non scavarti altrimenti non ci sono indietro scavati fin qua oltre a questo oltre a questo oltre a questo oltre a questo vai 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 no ragazzi 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 è possibile si è bloccato si è bloccato si è bloccato si è bloccato queste magie le fai solo oh ragazzi la che io gioco molto volte gioco il live da solo non mi succede mai un bel genere vai 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 la cosa fa adesso c'è no veramente la tua nipote chicco chicco rossi vai là vai via rossi no rossi vai via ok chicco ecci spingi o dietro no vai in fondo no vai in fondo ok giù spingi vai chicco vai no 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 ha scavato prova al sarro vai indietro guardatevi ragazzi no no ha scavato molto no prendilo l'altra volta che sono da dietro da la prendilo da la giù alza vai no no alza vediamo quanto resiste eh vediamo quanto resiste eh vediamo quanto resiste eh vediamo quanto resiste eh perché è carriano in mezzo da strada in mezzo da strada in mezzo da strada sì perché non ha scaricato ragazzi io che ridisco un po' e di conseguenza e dovrebbe scavare eh ma ma possiamo perdere ma allora un ribaltamento e un impantanamento ci sono due eh no no brava Circa brava no no piano ti sei messo male ok addirittolo ok aspetta un po' una gamba di merda c'è proprio chico chico stai sforzando non senti? non è che a fine mese è nuovo ci fa quello eh il paraurti mi ha rotto ragazzi mi ha rotto ragazzi il paraurti mi ha rotto no c'ho una mandria di operai da licenziare adesso sto scollato eh con la carta ma ma come ti fai se come usi il cannolino ma ci see alla fine del mese è stupendico che è a me è una palla gommata e camion la palla gommata non ho finito ma dai aspetta un po' grande tu ragazzi quando vedete dall'aria che siamo eravamo in un spazio di profina ma sono più correlati cosa succede? stiamo aumentando di qualcosa di più di un giorno e riusciamo a avere nuovi mezzi raga comunque hai ragione iuri perchè devi andare più avanti e la pena deve scendere davanti ok questo è 4 però hai disponibile centrale che si blocca e poi manuo avanti in una volta la parte delle telemetrici come potete stare da bloccare il differenziale lo fai alla palla gommata trazione di rete proprio come ponta guarda 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 quello di differenziale è partito secondo me si sentono come differenziale guarda, guarda, vai dietro la mia mano va là ma si sa, di differenziale non si fa per niente la testina è diretta fai fatica a girare però, stiamo sempre al mezzo non ti fa da niente tanto cosa fa? vuoi dire molte cose ma si, come pensate, ne riempie fuoco andate a farci volare tra l'altro farò una bella benata grazie mille ragazzi vai dentro se avete voglia anche su youtube ok, apri vedi? ma si è sollevato? si, è pieno si, è pieno è bello si, si, ora è abbastanza bene ora è abbastanza bene poi si è impiantato in un pozzo le fa tutte, le fa tutte ragazzi ecco qua stanno copiando vengo un po' secco? ok vai in dritto vai che per il bacio vai 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 tu secco, tu secco vai 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 non fermarti grazie grazie mille grazie mille ahahah finalmente piccolo dopo che fermi qua spingi il camion come è che devo fare un po' di fine una cosa magari stai oltre che abbiamo si è da dare in un battaglio di lavoro no con i danni che mi hai fatto tu dammi il stipendio non ci mi fa bene grazie mille grazie mille